Svizzera Svizzera dopo Ti faccio vedere l'osso Non mi farei per i primi piani anche se sono meno con la faccia troppo fonda Ciao bimbi, ciao a Bellinzona, non dite a nessuno che aveva vinto, o di nuovo vinto. A noi va avanti, oggi riesce a essere tutti arrivati, belli in zona siamo, 1.22 sono, noi andiamo a fare 5-6 ore che vanno arrivati. Ho detto che non c'era manco la carrozzeria, sta riprendendo. E' il MdG, bisogna, se non ridete vi fate ciò, un tentacchio, ma anche su no. E per noi dovete dire qualcosa... Leonora! I nuovi belli, la serie siamo i nuovi belli. Siamo contenti, partirei per la Germania, cosa emozionante per noi, un avvenimento di notevole importanza. Cosa ne dici di questa trasferta in Germania? Adesso è abbastanza lunga, siamo solo agli inizi. Comunque, però, insomma, è un'esperienza interessante, il morale è in alto, questo è importante, è un posto. La Germania è in un luciana, è una area del sole, però non è un ruciano. Cosa è un luciano? È un luciano? Guardi che caffè, non c'è da lei. Mann, ho fatto la Germania! Sì, è nervoso. Lasciò il tertore. Così non ho raccordi il tertore. E' uno strano. Questi sono fatti per esempio. Guarda. Svegli i pali, Riccardo. Svegli i pali, Riccardo. Svegli i pali. Va bene i pali. Non può fare l'umore? A forza, mi ha fatto. Guarda. Agli occhi fiosi. Vagia, vaga. No, perché? E lei è raccoltevole. E lei è raccoltevole. Questa film! Tutto! L'assicuré, l'assicuré, l'assicuré. Mi sono spostata per farmi riprendere. Le siete iscritte. Non lo so di riprendere Sì Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. 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 Non riesco a vincere le due in sé! Fammi? Appetite! Appetite! Sì! Ecco mai! Giochi sani! Giochi! 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 Sì! Giochi! 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 Ehi! Giochi! C'è me un po' di minuto? Grazie. 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 Skiavari und Sestre Levante aus der Provinz Genoa gilt also unseren Musikern, Solisten unter der Leitung von Kapellmeisterietti. E ora in italiano. Signore Europea, sono lieti di poter salutare fra di noi tutti gli ospiti per il concerto di gala del concorso bandistico che ha fatto manifestazione il sindaco Rikov. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Antica Fattoria Romana. Grazie a tutti. 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 Ich darf beginnen. Liebe Freunde aus Italien, liebe Backnanger mitbürger, die Europa-Union Backnang hat das Corpo Bandistico nach Backnang zu einem Freundschaftskonzert eingeladen. Liebe Freunde aus Italien, liebe Mitglieder, die Europäische Union von Backnang hat das Corpo Bandistico für ein Konzert, das unsere Freundschaft verabschiedet hat. Am vergangenen Freitagabend hatten wir das große Vergnügen dieses hervorragende Orchester und die großartigen Gesangssolisten kennenzulernen. Nella serata di venerdì scorso abbiamo avuto il grande piacere di conoscere questa meravigliosa orchestra e gli ottimi cantanti. Alle, die bei diesem Konzert dabei waren, werden noch lange an diesen Abend zurückdenken. Diejenigen, die nicht dabei sein konnten, haben etwas Einmaliges für sie. Tutti quelli che erano presenti a questo Konzert ricorderanno a lungo questa serata. Quelli che non ci sono stati, hanno perso qualcosa di unico. Alle italienische Freunde haben bei diesem Konzert aus der alten Backnanger Stadthalle ein Opernhaus internationaler Größe gemacht. Herzlichen Dank für dieses schöne musikalische Geschenk. Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie einen noch lange in Erinnerung bleibenden Beitrag für die europäische Verständigung und Freundschaft geleistet haben. Voi, cari amici italiani, avete trasformato quella sala-concerto in un teatro di grandezza internazionale. Grazie di cuore per questo bel regalo musicale. Grazie di cuore anche per aver dato un contributo perenne alla comprensione e all'amicizia fra i popoli europei e di cui ci resterà a lungo ricordo. Dass diesem ersten Konzert in Backnang in naa Zukunft ein zweites Konzert in den neuen Bahnhof Hotel folgen wird, darauf freuen wir uns heute schon. Speriamo e ci auguriamo che a questo concerto ne sega un altro in un prossimo futuro, nel nostro teatro che è ora in costruzione.